Buongiorno a tutti, mi chiamo Amelie, siamo qua a Madrid in questa primissima conferenza e con tutti i leader, George, Sergei, che presentiamo come sempre la compagnia M-Goldex, la sviluppiamo, la sfruttiamo ogni giorno per dare questa possibilità a tutti. Vi ringrazio, sono molto felice di essere qua con voi e a prendere tutte le tecniche di lavoro e vi saluto. Ciao! Gold is money!